Stupisci, stupisciti. Non darmi tutto, io per te sarò diverso. Dagli a una parte e riconosci l'intero. Niente di prevedibile, molto da scoprire. Fammi affascinare, lasciami intuire, lasciami pensare. Non dire tutto, fammi lavorare e soprattutto, manca a me. Viaggine una volta, una lampada, alla ricerca dell'uomo. Non dire tutto, fammi lavorare e soprattutto, manca a me. Non dire tutto. Eisesti diretti come, da eccetera. Ma wanted, un giro Eb againco. Finale all'intero. Non diretti come, da ecياistico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.